stima e conquistare la persona giusta. Quello che devi imparare a fare sono gli atti di coraggio. Gli atti di coraggio ti permettono di acquistare, di acquisire, di stacco dal risultato. Gli atti di coraggio cosa sono? Sono quelle azioni penalizzanti perché sono delle cose che fai, un saluto grazie Cornelia, un ringraziamento a Cornelia. Gli atti di coraggio sono quelle cose che se tu fai vanno a destrutturare la sfera logica perché danno emozioni. Ad esempio, cos'è un atto di coraggio? Nel momento in cui tu ti senti innamorata di qualcuno, e capita molto spesso nel malgascione, di essere innamorata, un saluto anche a Aria Tarocchi, nel momento in cui tu sei innamorata di qualcuno che però, da un punto di vista logico e razionale, capisci che non è la persona giusta, però senti un trasporto nei confronti di questa persona, cioè percepisci un coinvolgimento nei confronti di questa persona. Quello che tu devi imparare a fare, se ti rendi conto che non hai i tuoi valori, che non hai le tue credenze, che da un punto di vista logico e razionale non è adatto a te, tu devi fare un'analisi precisa da un punto di vista logico, devi fare un'analisi precisa da un punto di vista razionale, allora quello che devi imparare a fare è fare un atto di coraggio, cioè mandarla a fanculo, anche se lo ami, manda a fanculo chi ami e vedrai che aumenterà tantissimo la tua autostima. Manda a fanculo chi ami e chi non è la persona giusta per te. Mandarla a fanculo non vuol dire dirgli va a fanculo, ma vuol dire semplicemente smettere di cercarlo ad esempio, smettere di scrivergli, smettere di essere presa dalla messaggita acuta, questo è veramente un fatto fondamentale, perché se tu resti diciamo invece ti basi solamente sulle emozioni, sulle emozioni che questa persona ti dà, sulle tensioni che questa persona ti dà, tu non riuscirai a raggiungere assolutamente nessun risultato e anzi l'unico risultato che otterrai è quello di avere una bassa autostima, l'unico risultato che otterrai è quello di non essere una donna di qualità. Smettere di fare la sottona è fondamentale, ma la sottona non in generale, perché la sottona proprio con la persona che ti piace, perché il vero problema è che noi come esseri umani quando siamo coinvolti emotivamente da qualcuno, ad esempio perché ti somministra l'abbandono, perché ti somministra come possiamo dire il rifiuto, perché poi le persone si innamorano quando gli viene somministrato l'abbandono, quando gli viene somministrato il rifiuto, perché ci sono otto i serbatoi delle tensioni emozionali che possono far innamorare, sono l'abbandono affettivo, la disistima in se stessi, il senso di colpa, il timore di essere giudicati negativamente dagli altri e poi abbiamo la paura di essere rifiutati, la paura di essere condizionati e la paura di essere comparati fallimentalmente con un'altra persona, quindi essere diciamo in qualche modo svergognati. Ecco quindi, sembra strano, ma le persone che non tutti hanno tutte e otto questi diciamo serbatoi di alimentazione, ma se per caso tu hai uno di questi serbatoi di alimentazione e una persona in qualche modo sollecita proprio questo serbatoio, succede che tu ti innamori, ma ti rendi conto perfettamente perché la tua parte logica sai esattamente che due più due fa quattro, solo quattro e tutto quello che viene presentato come due più diverso da quattro lo piglio e lo butta nel cestino, mentre invece la parte emotiva mentre invece la parte emotiva invece non sa esattamente questo, la parte emotiva, per la parte emotiva due più due può fare anche quattro, ma potrebbe essere un rituale per togliere il malocchio ad esempio. Quindi è molto importante da questo punto di vista che tu fai un atto di coraggio, quindi quando senti attrazione per questa persona devi fare un atto di coraggio, devi sfancularlo. Ecco se tu manderai a fanculo, metaforicamente poi vuol dire che non considerai più, ti rivolgerai ad altri, proprio la persona per la quale è un maggior interesse, che è la persona per la quale senti di essere innamorata, bene otterrai dei grandi risultati, otterrai un effetto booster per la tua autostima, un effetto booster che farà salire la tua autostima, che darà un improvement, darà un miglioramento forte alla tua autostima e otterrai dei grandi risultati, perché nel momento in cui tu vai a coltivare autostima vedrai il mondo diversamente, è come se cambiassi le lenti e potessi vedere il mondo con occhi diversi. Ecco questo è quello che dovete imparare a fare se volete, quindi fate atti di coraggio, se volete conquistare, se volete sedurre, se volete far innamorare, mi raccomando e iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, Crescita Persona, sono tutti i miei YouTube, seguitemi ovviamente sul TikTok e su Instagram.